La cittadina partenopea di Sant'Antonio Abate La cittadina partenopea di Sant'Antonio Abate La cittadina partenopea di Sant'Antonio Abate Ma Enzo Sicignano ha provato in tutti i modi a restare in vita. Per una settimana, ha lottato con tutte le sue forze, ma nella sua partita più importante non ha avuto la meglio. Ieri sera, il ventenne vittima di un incidente stradale avvenuto il 25 luglio nelle vicinanze di Santa Maria la Carità, ha emesso l'ultimo respiro. Il giovane, originario di Sant'Antonio Abate, era a bordo della sua Vespa quando si è scontrato con un'automobile. Immediato il ricovero al San Leonardo di Castellemare, dove Enzo è stato operato d'urgenza. . Gli amici di Enzo raccontano di un ragazzo d'oro. Un vero angelo, te ne sei andato via troppo presto, scrive un'amica sulla bacheca del giovane. . E ancora. Tragico destino, se ne vanno via sempre i migliori. Mi mancherai. Un susseguirsi di messaggi tristi per aver perso una persona davvero unica. . E' stata una settimana lunghissima. Tutti in attesa di un esito positivo da quellettino di ospedale. . Lì da dove Enzo non è più uscito? E non è altro che l'ennesima vittima di un'estate all'insegna del sangue sulle strade e autostrade italiane. . . Cosa ci dicono le statistiche sugli incidenti stradali in Italia? Proprio i motociclisti sono quelli maggiormente subiscono più incidenti mortali alla guida, da soli costituiscono il 23% delle morti complessive in seguito a sinistro, seguiti a strettissimo giro dai pedoni, 22%. . Le cause sono tra le più disparate sebbene ad avere la meglio, spesso e volentieri, è la distrazione. . . Non bisogna trascurare il mancato rispetto delle norme basilari, come lo stop o il semaforo rosso, la velocità, l'uso dello smartphone alla guida, l'abuso di alcol e stupefacenti. . E come ogni anno, del resto? È il periodo estivo a far incetta incidenti mortali. . Solo un giorno fa, ad esempio, in Umbria, all'altezza di Deruta un uomo alla guida di un furgoncino, ha perso il controllo del mezzo mentre viaggiava sulla I-45, ed è finito contro le colonnine di rifornimento del distributore nell'area di servizio Le Querce. . . . . .